Mi chiamo Alberto Stella e sono l'enologo interno di Castello di Meleto. Quando sono arrivato ho proprio capito che c'era qualcosa in più, era una zona vocata, dove c'è stato tutto uno studio, c'è una sensibilità anche lì del viticoltore, anche del tempo a mettere un vigneto in alcune zone, in alcuni posti, e poi la bellezza incredibile del posto. Alla mattina si scende dal poggio, si va verso le aziende, verso i vigneti, tra cipressi, tra vigneti, tra uvini, tutti con questa nebbia, è incredibile. Poi da prima che ero cittadino, adesso ad avere una casetta di campagna a stile toscana con il cammino è impagabile solamente la quotidianità, c'è il cammino, bicchiere di vino, basta, altro che il panino, bicchiere di vino. Le situazioni sono quelle di fare qualcosa che deve essere immediato, capibile, subito, appena aperto la bottiglia, ma soprattutto, vista la denominazione, un rispetto alla longevità dei vini, quindi rendono estremamente attuale anche tra dieci anni.